Tre quarti campo del Giulianova, Fontana di prima intenzione verso Corrent, un rimpallo lo favorisce, ancora Corrent in aria, Corrent è solo in sinistra e in rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Corrent, Corrent, Nicola Corrent, lo skipper azzurro, ha guadagnato un pallone con capabilità, entrato in aria e con il sinistro ha affiondato in rete il gol del vantaggio.